è terminata la gara andate a salutare è terminata la gara 10 a 1 per la Virtus Castelfrenda 10 a 2, grazie alla prossima ecco rientrano i nostri ragazzi negli spogliatoi bravo Matteo bravo 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 Matteo e i palloni sono tutti la mistero sono tutti? si eh salentrano la roba ecco i chiavi stanno dentro mi pare che ce l'ha Nicola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.